Il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli si rivolge alla cittadinanza. Da poche ore dice ho ricevuto la comunicazione dal servizio di prevenzione della ASLA della positività di 14 ospiti presenti nella struttura residenziale per anziani di Villa Aurora dove già a febbraio era esploso un focolaio con 49 contagiati tra ospiti e personale sanitario. Attraverso contatti telefonici diretti spiega il primo cittadino di Altino avuto conferma dalle autorità sanitarie ASLA della regione che sono state messe in campo tutte le procedure di controllo e prevenzione per il contenimento del contagio e attivate tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza delle persone presenti nella struttura. Questa mattina l'USCA ha provveduto alla verifica della situazione generale e alla valutazione di tutte le misure mediche e sanitarie da attivare. Tutti gli ospiti sono al momento asintomatici e in buono stato di salute. Solo in un caso per altre problematiche si ravvisa una situazione più complessa dal punto di vista sanitario. Tutti gli ospiti tranne un caso ex covid risultano vaccinati. Tutti gli operatori risultano al momento negativi al tampone, precisa il sindaco di Altino Muratelli.